trovo lo standardo segreto della settimana 4 vediamo so che dovrebbe essere verso bordo al libro è un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti vogliono lo standardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.